benvenuti alla resegna stampa occhio ai giornali di oggi venerdì 9 aprile 2021 siete sul canale 17 di fano tv ben ritrovati cari telespettatori tra poco vedremo i giornali che abbiamo selezionato per voi faremo alcuni commenti cercheremo di sviluppare alcune alcune questioni di fare il punto della situazione ieri c'è stato c'è stata la visita del generale figliuolo nelle marche ci ha fatto i complimenti è andata andata bene forse arriverà il giallo insomma ci sono alcune cose di cui parleremo tra pochissimo dopo aver visto il santo del giorno e anche le previsioni del tempo il santo di oggi è san demetrio di tessalonica ma anche san massimo il sole è sorto alle 6 37 tramonterà le 19 e 48 minuti che tempo farà lo vediamo subito con trebimeteo.com weekend con la pioggia al nord parte del centro neve sulle alpi e forte scirocco tra giovedì e venerdì anticiclone ma freddo al mattino vediamo subito il tempo sulla nostra regione oggi vedete il tempo sarà soleggiato anche se ancora un po fresco per la giornata di domani sabato invece il tempo al mattino sarà un po' nuvoloso con qualche foschia sulla sulla costa la pioggia arriverà già nel corso della nottata della serata di sabato e domenica domenica eccola qua la giornata completamente uggiosa come direbbe lucio battisti con pioggia ovunque su tutte le province marchigiane adesso i giornali cominciamo dal carlino allora il carlino apre questa mattina con questa notizia che riguarda l'antiquario ciaroni il presunto caravaggio ero pronto a comprarlo il titolo avevo chiesto aiuto a selci giancarlo ciaroni e il dipinto che era finito all'asta a 1500 euro e che ora viene attribuito a caravaggio file per vaccinarsi e polemica lunghe attese e proteste al ristò a pesero fin dal mattino il sindaco ricci dice scrive servono più sedi e personale sanitario poi figliuolo in visita bene le marche su over 80 e fragili a vismara gira col macete fermato un giovane sugli anziani e le dosi a casa roverella poi i famigliani potranno tornare tamponi a scuola primo giorno con 600 test e tre persone tre giovani positivi trovati tre studenti tampone negative invece dopo i monoclonali adesso sono davvero libero e poi non versa la tassa di soggiorno due anni all'albergatrice è arrivata per lei la condanna deruba un'anziana dovevo curare una bambina badante moldava finisce sotto processo prelevati 16 mila euro dal conto della donna poi affari online la finanza scova un evasore totale imprenditore di valle foglia accusato di aver nascosto 650 mila euro al fisco corriere adriatico screening titolo d'apertura ma tanti tanti ma non tutti tamponi alle scuole medie la preside l'ultima parola e della famiglia co del ristò e ricci sbotta riservisti del vaccino la regione chiede verifiche all'asur salta martini invia gli atti in procura centro pagina bene ma bisogna accelerare il generale figliuolo nelle marche e poi di aziende marchigiane si parla sempre sul carlino di oggi non sono più competitive e purtroppo è un rapporto che ci mette insomma in una condizione ormai di secondo piano da vila marina ancora la riqualificazione del lungomare di pesero poi tassa di soggiorno salda il suo debito ma è comunque condannata turismo al summit baldelli spingerà sulla fano grosseto oggi c'è un summit a fano dove tra l'altro parteciperà anche salvo imprevisti acquaroli sarà venduta all'asta invece la bacchetta di rossini il prezioso cimelio dono del comune di passi verrà battuto alla casa gonnelli di firenze questi sono i titoli diciamo così della nostra rassegna stampa con le prime pagine del corriere e del carlino ma andiamo a vedere adesso le pagine del quotidiano nazionale perché perché ieri c'è stata una conferenza stampa del premier mario draghi il quale ha detto che vuol far ripartire l'italia anche prima della fine del mese di aprile se è possibile prima di questa conferenza stampa il premier draghi aveva incontrato il leghista matteo salvini e ci sono delle cose alle quali ha risposto mario draghi tra cui anche appunto quella dei soldi dei soldi che però non sono la soluzione tutti i mali perché al di là degli aiuti quello che conta adesso è dare la possibilità ai lavoratori di lavorare la miglior forma di sostegno infatti per l'economia dice draghi sono le riaperture e non i ristori del governo le prossime settimane devono essere di riaperture non di chiusure si spiega la soddisfazione di salvini che l'aveva incontrato qualche ora prima insistendo al pari dei governatori sulla necessità di anticipare le aperture in sei regioni italiane tra cui ci siamo anche noi delle marche insieme ad abruzzo umbria veneto e le province autonome di trento e bolzano il premier però non chiude le porte è evidente dove non dove si è più avanti nelle vaccinazioni di anziani fragili le cose saranno più facili forse si può ripartire prima del 30 di aprile e poi annuncia che il prossimo decreto arriverà con il def il più corposo di quanto non avesse previsto certamente superiore all'ultimo di 32 miliardi ciò su cui invece draghi non transige è l'ulteriore proroga del blocco dei licenziamenti che è stata chiesta dalla cgl dal sindacato la posizione del governo è quella espressa nel decreto sostegno ovvero lo sblocco dei licenziamenti a giugno quindi le aziende potranno licenziare a giugno a seconda dei due tipi di ammortizzatore sociale di cui dispongono i lavoratori e a ottobre per gli altri ora quello che però è importante ricordare è che sulle riaperture il dato che interessa Mario Draghi è uno solo conseguenza della sua strategia ovvero la vaccinazione delle persone più anziane degli over 80 e 70 le regioni virtuose quelle che metteranno a riparo i fragili potranno ripartire prima allora volendo commentare questa pagina di giornale ve la butto lì e cerchiamo di capire se questa è una una cosa sulla quale si poteva ragionare oppure no cerchiamo di stimolare anche la la mente dei nostri telespettatori allora tutti sostengono che era fondamentale vaccinare prima gli anziani le persone fragili e quant'altro e poi tutti gli altri ma e qui è la proposta sulla quale vi invito a riflettere se invece avessimo in qualche modo fatto il contrario ovvero vaccinato prima i forti cosiddetti forti e la forza lavoro e poi gli anziani non avremmo ottenuto lo stesso effetto ovvero quello di proteggere le persone più deboli considerando che a colpire a contagiare gli anziani sono prevalentemente appunto i giovani e comunque la forza lavoro quella che esce che ha vita sociale mentre gli anziani abbiamo visto restano in casa stanno in casa e quant'altro ecco non poteva non potevamo avere lo stesso effetto ma con in più un dato il poter far lavorare perché vaccinata appunto la forza lavoro ecco su questo vi invito a riflettere chiaramente ci sono tanti sì ma pro in base a quello che abbiamo avuto come esperienza e qui si può discutere a lungo però su questo facciamoci un ragionamento sulla questione invece AstraZeneca il vaccino che con tanti pregiudizi ma anche con qualche punto fermo si sta tentando di portare avanti con la vaccinazione anche se con molta difficoltà ecco io questa mattina ho selezionato la pagina 5 ancora del resto del carlino perché Alessandro Malpelo fa un po il punto su quella che è la situazione appunto di AstraZeneca intanto c'è un dato sul quale mi soffermerei un attimo questo qui il dato allora ci sono 10 decessi su 2 milioni di dosi somministrate ovvero pare allo 0,005 per cento del totale quindi a mente fredda su questi dati le morti sospette poi ancora sospette riconducibili al siero anglo-svedese in Italia sono state 10 morti su 2 milioni ok i centralini però chiaramente delle aziende sanitarie sono stati bersagliati da richieste di chiarimenti sarà un'impresa a rimuovere certi pregiudizi ma la profilassi è collaudata ribadiscono le autorità e la campagna vaccinale dunque va avanti ora ci sono delle domande tra chi ci ascolta ci sono persone che hanno fatto questo vaccino AstraZeneca anche a torto collo non poteva fare diversamente allora basta una sola dose per esempio di AstraZeneca solo chi ha avuto il covid e ha ricevuto una prima dose in teoria può considerarsi protetto e dunque fermarsi se il medico curante è d'accordo e risponde al telefono chiusa parentesi tutti gli altri faranno bene a completare il ciclo anche quelli che hanno iniziato con AstraZeneca senza riportare effetti collaterali di rilievo nelle fila del personale sanitario per esempio attenzione molti di quelli che avevano ricevuto la seconda dose convalescenti per aver contratto il virus in forma lieve o sintomatica hanno avvertito qualche brivido in più e si sono ritrovati nel sangue una concentrazione di anticorpi alle stelle una sola somministrazione dunque con senno del poi forse poteva bastare ancora qualche domanda che può essere interessante come capire come risposta se ho fatto già la prima dose la seconda è sicura quindi se uno di voi ha fatto già AstraZeneca molti si domandano ma adesso che devo fare la faccio non la faccio ho paura di rifarla allora chi ha iniziato il ciclo vaccinale con AstraZeneca in Italia senza però attenzione riscontrate nulla di anomalo perché leggo adesso anche su facebook di qualcuno che ha fatto AstraZeneca tra l'altro con l'otto quello sequestrato lo ha fatto e ancora ha qualche problemino ora non parliamo di questi ma chi ha fatto AstraZeneca la prima volta e non ha avuto nulla di anomalo nei giorni successivi è chiamato a sottoporsi alla seconda dose senza timore indipendentemente dall'età quindi sapete che adesso sotto i 60 anni AstraZeneca non lo iniettano più però se quella volta anche con meno di 60 anni ve l'hanno fatto e avete fatto la prima dose e non avete avuto problemi eccetera potete farlo tranquillamente anche se avete meno di 60 anni gli under 60 che hanno già ricevuto la prima dose ha chiarito il generale figliuolo riceveranno anche la seconda dose poi in presenza invece di sintomi come lividi, ematomi, mal di testa forte, dolori addominali inspiegabili qui ha dichiarato Giuseppe Remuzzi direttore dell'istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano è giusto che la gente avverta subito il medico curante e si sappia che esistono cure in tutti gli ospedali quindi questo è un po' il quadro per quello che riguarda AstraZeneca intanto la Germania che cosa ha fatto con la Merkel che notoriamente la Germania è più avanti di tutti nella cosiddetta Unione Europea adesso parlare di Europa Unita fa ridere molto di più di prima adesso perché perché ognuno va in ordine sparso e Berlino che cosa fa leggiamo sul giornale scarica l'Unione Europea compriamo lo Sputnik ovvero il vaccino russo la Germania tratta da sola con la Russia però dice aspetteremo comunque il via libera del Lema prima di iniziare la distribuzione un po' come ha fatto da solo anche il nostro caro governatore De Luca il ministro Spann dice se saremo in grado di utilizzarlo tra due cinque mesi la campagna vaccinale farà un grande balzo quindi come dire considerando che AstraZeneca sempre di più anche se non lo si dice ma va un po' sempre di più fuori gioco ormai abbiamo bisogno oltre che di Johnson & Johnson che arriverà tra poco anche di un supporto di più se no qui il vaccino non si vaccinerà mai più nessuno nel senso ci vorrà molto più tempo e quindi è una man forte sicuramente quello di avere anche un vaccino russo vaccino come quello dei russi intanto tornando in provincia e quindi andiamo nella Val Cesano dal resto del Carlino sul covid i numeri del covid c'è un focolaio fratteroso l'abbiamo visto anche nei giorni scorsi con la tabella si è verificato questo aumento così un po' strano ma poi strano non è perché vedete in un centro di accoglienza per migranti a Fratterosa è bastato uno che poi ha contagiato tutti e lì ha fatto balzare i numeri il sindaco dice l'intero gruppo adesso è in quarantena e viene opportunamente monitorato la maggioranza di questi ragazzi è asintomatica e comunque nessuno di loro presenta problemi significativi l'importante adesso però ecco che siano controllati che restino in quarantena e che nessuno si muova di lì sul riservisti invece questa mattina ancora il Corriere Adriatico torna a fare chiarezza su quella vicenda della donna di 53 anni che da Porto Recanati il sabato di Pasqua approfittando di una visita medica ad Ancona ha avuto la brillante idea di mettersi in coda e con lei c'erano altre 17 persone nel centro vaccinale di Ancona per tentare l'impresa di ricevere un vaccino così di scorta di quelli presi all'ultimo minuto la signora ha avuto fortuna insieme agli altri, gli altri non lo so ma penso di sì ha avuto fortuna e quindi racconta, ha raccontato lei il Corriere Adriatico è riuscita a farsi vaccinare senza appuntamento, senza prenotazione, senza che nessuno l'avesse chiamata e via dicendo questa storia è finita sul giornale l'altro giorno e adesso apriti cielo Asur ieri giustamente ha dato la sua versione dei fatti oggi c'è quella dell'assessore Saltamartini il quale dice, andiamo a leggere, qual è l'obiettivo di Saltamartini? di dissuadere, quindi di scoraggiare i cittadini che non hanno i requisiti dal presentarsi per inutili attese alle sedi vaccinali dunque, con le precedenze fissate per decreto cioè prima vengono le fasce debole eccetera eccetera Saltamartini non vuole che la campagna si trasformi in un assalto alla diligenza ma ha dovuto gestire il problema anche questo ormai conclamato della confusione crescente sul vaccino AstraZeneca oltre ai buchi createsi nel cronoprogramma e alle remore delle categorie fragili l'unico modo per ricevere e questo lo sottolineiamo bene l'unico modo, quindi lo diciamo per chi magari qualcuno già avesse l'idea di mettersi e di fare come la signora di emulare la signora e dire adesso facciamo anche noi ci mettiamo, andiamo a Pesaro, a Macerata, a Ancona eccetera e ci mettiamo in fila, vediamo quello che succede no, da oggi non sarà più possibile anche perché adesso i dati, questa storia finisce in procura per capire se c'è qualcuno che ha sbagliato da qualche parte l'unico modo per ricevere, torniamo al giornale e alle parole di Saltamartini l'unico modo per ricevere prima il vaccino fuori dalla prenotazione era e rimane quello delle chiamate con cui gli operatori ASUR in caso di buchi nel programma allertano gli ultimi della lista della stessa categoria a rischio e anticipano dunque l'appuntamento ora, cosa significa? Significa che non è possibile fare come aveva auspicato per non sprecare le dosi lo stesso generale Figliuolo cioè vaccinate pure il primo che passa l'importante è che non si sprechino le dosi ma quello di aspettare una telefonata solo così si potrà sperare di, come dire, non scavalcare di arrivare prima rispetto al cronoprogramma solo se si viene chiamato quindi nessuno si potrà più presentare all'improvviso e sperare di ricevere una dose di vaccino allora invece la buona notizia la buona notizia qual è? è questa che i numeri per quanto riguarda la nostra regione la regione Marche sono da zona gialla lo diciamo, lo dicono i giornali lo dicono i dati sono in diminuzione infatti i malati che transitano per il pronto soccorso nelle varie strutture regionali ieri erano 50 concentrati per la maggior parte tra Marche Nord e Macerata e siccome oggi è venerdì e quindi oggi c'è il famoso bollettino nel quale si legge la colorazione regione per regione le Marche, così come il Veneto, l'Umbria, l'Abruzzo poi Trento e Bolzano avrebbero un trend da zona gialla però oggi la cabina di regia del Ministero della Salute ufficializzerà i dati che analizzati dagli esperti dunque da un paio di settimane questa è la buona notizia la situazione sta migliorando progressivamente negli ultimi giorni si assiste anche ad una diminuzione di pazienti nelle strutture sanitarie tornare in zona gialla significherebbe la riapertura anche di bar, ristoranti a pranzo quindi diciamo una ripresa delle attività importante anche se poi dopo ci sono attività come palestre, piscine che sono rimaste chiuse da troppi mesi a causa di questa emergenza e insomma anche loro meritano in qualche modo di riaprire ma insomma per stare con i piedi per terra nulla è scontato intanto il Covid a San Benedetto manda in tilt il servizio San Benedetto del Tronto il servizio crematorio lista d'attesa fino a 15 giorni a Fano invece e cambiamo argomento spingiamo sul raddoppio del traforo qual è il traforo? quello della guinza la galleria la madre di tutte le incompiute soprattutto per avere che cosa? la Fano Grosseto a quattro corsie non come quello che ci hanno paventato negli ultimi tempi l'annuncio di Baldelli oggi atteso con Acquaroli Carloni e Aguzzi alla conferenza del turismo organizzata da Conf Commercio qui vedete Varotti di Conf Commercio e Baldelli l'assessore regionale di questo si parlerà in questo incontro che appunto si terrà nel corso della giornata a Fano estorce invece la cronaca 8 mila euro e minaccia il consuocero altri guai per un 44enne con più denunce di truffa che ora è finito in carcere e poi sempre da Fano il gusto vintage degli anni 60 per allegre feste nuziali e danzanti un investimento post-covid di tre DJ fanesi che hanno allestito una console mobile su un van su un mezzo su ruote da sinistra Tommaso Renzoni Matteo Biancaria e Marco Terzo questi sono i protagonisti coraggiosi di Fanesi allora poi c'è la questione di Aset invece Aset adesso ha le mani libere sì trasversale della politica passa la mozione delle minoranze per il voto favorevole di quattro consiglieri del centro-sinistra per il biodigestore l'azienda può trattare con partner diversi da marche multiservizi seri si è astenuto poi c'è la notizia invece di una di un avvocato Giuditta Giardini che reagisce al dileggio subito riguardo all'atleta di Fano ora qui è un po' uno sport che va abbastanza di moda però diciamolo bene è rischioso se vi viene in mente anche per fare i simpaticoni di prendere un articolo di giornale un articolo di un sito internet regolarmente certificato iscritto al tribunale come testata giornalistica come può essere il nostro o tanti altri insomma e di manipolarlo cambiandogli il titolo per magari denigrare qualcuno eccetera eccetera come è stato fatto nel caso di questo articolo di cui parla il Corriere Adriatico questa mattina un articolo che riguardava pubblicato dal Sole 24 Ore che riguardava l'isippo e l'idea di Massimo Seri sindaco di Fano di proporre l'isippo come testimonia del prossimo G20 qualcuno l'ha preso questo articolo scritto da questo avvocato l'ha preso l'ha manipolato ci ha fatto il burlone e lasciando però che cosa la firma di Giuditta Giardini che aveva scritto ecco lasciando pure la firma ora questo chiaramente si configura come il peggiore dei casi e quindi a rischio querela e quindi attenzione a quando si fanno questi collage queste cose la maggioranza si spacca invece sui rapporti Aset Marche Multiservizi a scatenare lo scossone in consiglio la mozione presentata dall'opposizione che parlava della partecipata fanese autonoma e pubblica quindi frattura nel PD il documento votato trasversalmente il sindaco si estiene e dice errore gravissimo mentre sulla pagina 16 del Carlino appunto sempre da Fano a Quaroli in città si parla di turismo sul piatto la prossima stagione quella estiva la necessità degli operatori economici e anche il tema delle infrastrutture poi la proposta per quei carabinieri che hanno salvato dal suicidio un 48enne fanese intenzionato a farla finita alla stazione di Fano un premio ai carabinieri estorsione all'ex consuocero finisce a processo mentre controlli a Carignano siamo sempre sul fanese i residenti avevano più volte richiamato l'attenzione su alcuni rumori e movimenti provenienti dalle strutture che ormai non sono più utilizzate le verifiche sono state effettuate dalla polizia locale di Fano insieme al commissariato però alla fine tutto sommato è andata bene mentre a Sassonia la spiaggia fanese di Sassonia razziato un ristorante danni e rabbia i titolari servirebbero il ristorante del fuorigrotta che si trova in Viale Adriatico nella zona Sassonia danni agli infissi il bottino è magro i ladri sono entrati all'interno la notte scorsa di qualche giorno fa insomma approfittando della zona poco illuminata hanno come al solito fatto più danni che altro rotto lì la porta d'ingresso una vetrata usando un piede di porco probabilmente e poi insomma alla fine come fanno di solito in questi casi entrano dentro spaccano tutto aprono tutto fanno un po' di confusione e poi sono più i danni che il resto poi badante una badante che spilla a Pesaro 16 mila euro all'anziana volevo curare una bimba molto malata una moldava di 46 anni a servizio in una famiglia di Pesaro finita a processo per indebito utilizzo di carta di credito ha chiesto di patteggiare mentre a processo per peculato e quindi condannata non versa la tassa di soggiorno due anni all'albergatrice una donna che all'epoca del fatto del 2005 gestiva tre hotel ed era finita a processo perché non aveva rigirato al comune 9 mila euro il comune di Pesaro 9 mila euro della tassa di soggiorno restando a Pesaro l'asta va la bacchetta francese di Rossini donata al maestro dal comune di Passi il avorio intarsiato ebano e madreperle il prezioso cimeglio avrà una base d'incanto di 1500 euro potrebbe comprarlo il comune di Pesaro e metterlo nel suo museo perché no lo strumento base d'asta poi bisogna vedere dove arriva lo strumento per la direzione d'orchestra tra gli oggetti proposti dalla casa d'asta e gonnelli l'appuntamento per il 20 aprile del 14 nella meravigliosa location appunto di Firenze e adesso invece da Senigallia addio a Nicolò Pizzimenti era il re delle pescherie morto 83 anni in seguito ad alcune complicazioni per un intervento aveva un rene di negozi una rete di negozi tra Senigallia Fano e Monte Marciano oggi nella chiesa dei Roncitelli l'ultimo saluto alle 14 e 30 e poi ostra il Covid si prende anche il cavaliere Marino Bozzi era uno studioso della storia del comune e la poetessa Baioni festeggia 65 anni di nozze l'anniversario di Pietra con il marito Iacussi a cui dedicò anche un'opera intanto sull'omicidio Pasquini da Senigallia l'ultimo saluto ad Alfredo rilasciata la famiglia la salma del giovane ucciso dal padre dopo l'ennesima lite i funerali domani alle 16 nella cattedrale di Senigallia noi ci fermiamo qui la rassegna è finita questa sera alle 21 vi ricordo esplorare i confini si parlerà a proposito di false notizie di fake news appunto di fake news con il circolo Bianchini io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle 20 e 30 con il telegiornale Occhio alla Notizia arrivederci a presto a presto a presto a presto a presto